Questo è York, è un hamstaff a tre anni e da un anno e mezzo che vive in rifugio. Viveva a catena in un campo rom e per gentile concessione dei vecchi proprietari ce l'hanno affidato. È un cane dolcissimo, buonissimo con l'essere umano, bambini, donne, uomini. È un cane coccolone, però non è un cane per tutti. Ha una fisicità importante, anche un po' testone, come chi ben conosce la razza, e non ha molta simpatia per i gatti. Se vi siete innamorati di questo cane, se vi è piaciuto, contattateci e cercheremo di dargli una famiglia che gli voglia molto bene, perché hanno tanto bisogno di amore questi cani. Un cane come York, certo, è molto grande, molto forte, poi nel pieno degli anni è molto giovane e quindi è bene che abbia un proprietario in grado di gestirlo. Ma i volontari di Villa Elettra l'hanno educato perfettamente. Quindi diamo una casa a questa meraviglia telefonando subito al 320-0380-318